ok tutta un'altra cosa con il gancho metallico ma lo devo fare io per un po' molto più veloce mascus qualche pesce di squalo l'hai preso tu? si quello sempre quattro ne dà cazzo in culo mi servono tre legno è possibile che già le finiti io ce li ho aspetta vai su un'altra tu contiene contiene ma la vedo io tanto non c'è lo scopo scamminare nella capire amore subito quel fesso e non ha capito che rompe solo le scatole angorie mamma mia caccia possiamo aprire uno in un fruttivendo ananas ananas a 1 euro e 50 mangi mangi bugatz il vetro il vetro io io prenderei la sabbia perché la sabbia chi è questo non è ritornato lo squalo ma non dura niente è buono è buono che è ritornato adesso lo ce lo mangiamo il nono squalo vuole morire accontentiamolo a te stardo tu sei la mamma è la mignotta si doveva arenare però non è guarda in mezzo ai coralli non ti blocchi mai è stronzo se vabbè domani festa a questo 30 tonnellate che si muove agevolmente ma dove cazzo tiri morsi pure ringoglioni è capitato questo no questo è pazzo lo scolo pazzo qua lo coglione già sta ferito ferito ad una gamba ma l'anima dell'immortaggio che si gira che sembra una spigola ma vedi quanto è ferito è bello ferito eh vieni vieni e io sto per morire qua c'è un ram che non hai preso eh vabbè sarà capitato lo squalo dai che è quasi morto un colpo fammelo uccidere a me lo uccido io ma beccati tu tutta la carne ma finalmente che hai rotto pure che hai rotto pure le palle a venire sempre oh e non muore mai 9 squalo incredibile e continuano a venire oh non è che dici basta non dicono basta allora bisogna mettere le cose in chiaro tu cioè la vuoi ingrandire tu la base la devi la devi aggiustare tu la base ingrandisce la tu che secondo me esce meglio cioè nel no che esce meglio nel senso che sei più pratico quindi allora mi devi portare tu i cosi materiali allora la plastica la plastica come stiamo messi come al cacchio se non abbiamo un cazzo di niente eh io c'ho solo un di plastica quindi dobbiamo lasciare l'isola tanto quello che avevamo quello che dovevamo fare abbiamo fatto pur se lasciamo qualche cosina però ci abbiamo un sacco di cose da sciogliere il legname sta pure calando e lo lascia beh andiamoci mettiamo la cosa così oh oh boh che è contro il cibo a freddin ha perso contro king con venezia che incredibile ah vabbè ma se per tempo con la salernitana questa si sa può darsi ok solo che vedi a non girare la gira questa diretti insieme perché io guardo dove dove stai di retini così indiretta è che se sono un becchiamo un cazzo ma non prendiamo lo stesso un cavolo perché quello va in obliquo in altri solo poi sempre quello no è sempre quello ok ma ci siamo andati dalla s che ce l'avevamo prima sulla destra ma ce l'abbiamo sulla sinistra che stiamo tornando indietro vabbè tanto adesso stiamo a girare in a riempire l'acqua e se per forti in quanto io non mi faccio il secondo corso ma me lo faccia poi fa col bicchiere scusa ma non posso avere un bicchiere perché ci sto tre anni a riempire quella costa vuoi fare la bottiglia la tende una plastica no dove sta qua non si vede ridammela ma non so perché non si vede questo a eccola sta sulla fornaccia ma c'è c'è dammela quando stanno qua 5 6 a una una la volta se è sempre qua non vede l'uccello perché c'è una titoli su sta coluccio l'accio di no 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 sì 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 ah è di nuovo è venuto lo scorcio ma non devo un cazzo vabbè tanto quanto stiamo in navigazione non è che ci rompe le cioè non sta avvenendo manco più a distruggere la vedi questa non ho male che me ne sono accorto se no questo si distruggeva l'ancora che cosa stava un pezzo di di zattera dove sta appoggiato un piede dell'ancora che stava al 10 per cento e se quello si distruggeva l'ancora se ne andava ai pesci una porca plastica mo che vogliamo la plastica arriva la legna quando volevamo la legna arrivava la plastica questo gioco ci conosce ci conosce vecchio allora tu lo sai di che cosa ti deve occupare adesso ah per plastica fuori i rettini mettili su tutta questa striscia qui capito questa striscia e questa striscia tutto di rettini capito qua dove sto io si mi sono liberati di un posto cazzo ma che palle c'è la pasta non dura un cazzo ecco la tele acqua no 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 e sto difetto di merda tieni guarda a me c'è visto dove la vabbè poi tu nel video vedrai dove lo fa uscire lo scatolo c'è da da 20 metri di distanza rispetto a te aspetto c'altro e quattro di parte è sempre ok a postini e cioè le foglie foglia si tieni qua lo scuolo scuolo perché col pesce male Cioè quell'uccello maledetto non butta le pietra allo squalo Eh sì, aspetti che scolizzai ce ne ha dei un tarci Sì, lì si fa, si è di plastica E' questa dove l'ho buttato Sì, sì Ehi, ti ho finito la legna, mamma mia Carniade, chi è questo? Allora, allora Ah, la vedo, la legna sta qua Vai, altra plastica da Ti, inoltre due, ti Non ti mettere proprio vicino al... Ah, hai visto? Perché vedi dove me l'ha tirata a due metri di distanza Un grandiamo qui A posto Mi viene a mettere uno qua, guarda Aspetta che prendo questa plastica che sta qui Ehi, che ho messo l'altro retino Ah, ok Salute 90% Mamma mia, così ti fai i retini Ma, no, che fatica Ma perché noi stiamo facendo più cose contemporaneamente Se facevamo solo prima tutti i retini Una scatola Mamma mia Che cosa starà in questo pacchetto? Un'altra stronzetta? Vediamo Appena Credenza Credenza Un'altra credenza Ah, ecco perché tu hai detto un'altra È un altro modello Sì, ma che cazzo c'è Certo Solo per mobili questo, eh Ma qui diciamo che si sta un po' più allargando Che c'è Se c'è le corde, dammelo Hai lo squalo, tu ancora crudo? No Ah Le corde vuoi? Io c'ho Due corde E dammelo Che si faccia di dire Che? Guardami Sì Ti è uscito dal culo Sì, vabbè Ma non è Oh, vedi quante belle cose che stanno arrivando C'è pure un battello Tutta la egnaca Ma è assurdo sto gioco Aspetta, vieni da qua Che lo mettiamo Vediamo Vediamo che è qua un altro Vediamo che è un altro Vediamo che è quello che ci sono Bandiera Un altro Vabbè, un altro modello No, abbiamo preso la bandiera della Norvegia Di Holland Stai andando verso la Zatter Come verso la Zatter Verso lì Il battello Eh, vabbè Zatter Ah Beh, io ho iniziato ad andare allora Vado sopra lì Eh, vai tu Uno Due Tre Quattro Vediamo se lo scuola non rompe il cavolo Eh, dietro il battello c'è un altro di solo una La dimaccia di tua sorella in calore E c'è Sì, ma che cacata Due assi e due pietre È una ricetta del cazzo Cioè, è rischiato di morire? Perché cosa? Per due morsi sul culo Per queste stronzate Maledetta Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Ma bacca Casteri c'è Ma è, come che arrivi a male Se lo uccide un'altra volta lo squerro Perfò No, non c'è diventato tutto vero che succedono con lo squerro Eh, lui vuole essere ucciso Cioè, stiamo ingrassando Andando a forza di mangiare squalo Ehm, sì Il verso Vetre Cioè, c'hai le fuori da hand Non c'è un cavolo di niente Non c'è un cavolo di niente Grazie a tutti.